Da diversi anni ormai il Museo Diocesano di Milano è diventato un punto di riferimento per la grande fotografia e infatti è in arrivo e ve lo diciamo in anteprima una nuova grande mostra dedicata a uno dei protagonisti della fotografia del Novecento. Si tratta del fotografo americano Elliot Erwitt e questa è proprio una grande retrospettiva, 100 immagini che raccontano tutta la sua straordinaria carriera di fotografo. A Milano Erwitt, anche se appunto è un fotografo americano, è molto legato proprio alla città di Milano. Lui è nato nel 1928, quindi ha 94 anni, a Parigi, da una famiglia di russi ebrei e esuli appunto in Francia, ma ha passato la sua infanzia proprio a Milano, solo che dall'Italia ahimè ha dovuto fuggire nel 1939 a causa delle leggi razziali fasciste e la sua famiglia si è stabilita in America, a Los Angeles. Per lui è stata una fortuna perché ha cominciato a frequentare proprio da ragazzo i sette cinematografici di Hollywood e gli è nata tutta questa passione per il cinema, per la fotografia. Un autentico talento e se ne sono accorti subito perché fotografi famosissimi come Robert Capa ad esempio subito lo ha chiamato nella sua agenzia la prestigiosa Magnum Photo, della quale lo stesso Erwitt poi è stato proprio presidente alla fine degli anni 60. Ecco, nella mostra al Museo di Ocesano che sarà inaugurata il 27 maggio e che poi resterà aperta per tutta l'estate fino ad ottobre, si possono vedere le sue opere più importanti, i suoi scatti più famosi, quelli proprio delle celebrità come ad esempio Marilyn Monroe, ma si possono vedere anche tutta una serie di scatti simpatici, leggeri. Erwitt è infatti diventato famoso ad esempio per i ritratti che ha fatto agli animali domestici nel rapporto proprio nell'ambiente urbano, anche se le sue opere proprio più toccanti, più impressionanti rimangono proprio quelle che lui ha realizzato nei grandi eventi storici. Le foto di Nixon, di Fidel Castro, di Che Guevara e soprattutto di Kennedy, del quale era proprio ammiratore. Lui, Erwitt, ha fotografato i funerali del grande presidente americano, immagini straordinarie che sono entrate proprio nell'immaginario collettivo.